Buongiorno FTI Online, calo moderato questa mattina per il Fuzzi Mib, vediamo infatti che l'indice sta lasciando sul terreno 0,4% circa, siamo intorno ai 25.375 punti, i minimi toccati a 25.340 circa sono su questa linea di tendenza che parte dal minimo del 31 di gennaio, quindi il supporto rilevante è 25.340 fino a che quello tiene, la flessione vista oggi può essere considerata un fenomeno temporaneo, la tenuta del supporto alla rotura di 25.5 dovrebbero permettere il test almeno di 25.750, quindi per adesso nulla di grave rispetto al calo degli ultimi minuti, se dovessimo invece scendere al di sotto di area 25.340 ci sarebbe il rischio di assistere almeno al test di area 25.000-25.050. Oggi ci occupiamo dei titoli che hanno a che fare con l'offerta di intesa per Ubi, quindi i titoli sono sostanzialmente la stessa entesa San Paolo, UbiBank, poi Unipole e UnipolSai che dovrebbero entrare o direttamente o tramite la partecipazione che ha Unipole in BiperBanca nell'operazione e poi guarderemo anche Banca Montepaschi dal momento che a questo punto diventa un soggetto appetibile nel caso di nuove aggregazioni, ad esempio molti hanno osservato che Unicredit in questo momento è rimasta ferma mentre questa mossa di intesa ha mosso il mercato, quindi non si può escludere ovviamente, non ci sono notizie in questo senso, ma una ipotesi potrebbe essere che magari Unicredit vada ad esplorare il filone Montepaschi per rispondere con un'aggregazione sul mercato interno, quella messa in piedi da Intesa San Paolo, oggi c'è la riunione di UbiBank per discutere proprio di questa offerta di pubblica di scambio, una parte del capitale è in mano ai soci storici della banca, una parte consistente è anche in mano invece a fondi e anche a fondi esteri, pertanto sarà interessante vedere se poi questa offerta di intesa verrà perfezionato o meno, il mercato fino a questo momento scommette che questo potrebbe essere il risultato, infatti il prezzo di UbiBank si è allineato più o meno con quello offerto da Intesa San Paolo, ma ancora attenzione perché non è la situazione ancora abbastanza fluida. Iniziamo quindi con l'analisi di intesa che questa mattina troviamo in sostanziale parità dopo il massimo toccato due giorni fa, 2,63 circa, rimaniamo molto vicini a quei livelli, il quadro grafico è tutto sommato positivo, non bisogna dimenticare che il rialzo che i prezzi hanno disegnato dai minimi della scorsa estate, anzi dal doppio minimo della scorsa estate sono per adesso in un contesto correttivo, ossia hanno ritracciato tra il 50 e il 61,8% del ribasso precedente, quello che era partito dai massimi del inizio del 2018, è pertanto prematuro parlare di una vera e propria inversione di tendenza, ma sostanzialmente il mercato in questo momento sta dando fiducia a tutto il comparto bancario e in particolare questa mossa di intesa è stata valutata come estremamente positiva per creare valore e rispondere alle sfide future che il comparto finanziario dovrà affrontare nei prossimi anni, quindi il test A270 potrebbe essere abbastanza imminente, sopra quei livelli ci sarebbe la possibilità di vedere ricoperto questo gap che i prezzi si sono lasciati alle spalle il 21 di maggio del 2018 l'atto alto del gap a 2,98, pertanto un obiettivo intorno ai 3 Euro a questo punto sembrerebbe plausibile, è importante che i prezzi si mantengono al di sopra di area 2,50-2,55 per conservare intatta la possibilità di continuare la loro fase crescente. Adesso c'è l'incognita UbiBank, o il titolo si manterrà intorno a questi livelli tra 4,20 e 4,30 più o meno dove si colloca l'offerta di intesa, oppure potrebbero accadere due cose, si va verso una perdita di credibilità di questa operazione, quindi le quotazioni potrebbero tornare indietro e andare a ricoprire il gap che si è aperto due giorni fa, oppure potrebbe il mercato iniziare a scommettere su una ipotesi che intesa già escluso, ma che ovviamente non si può per adesso ancora considerare impossibile, aversa quella di un rilancio nell'offerta che magari potrebbe andare su nuovi valori di concambio e quindi fare salire le quotazioni, resta il fatto che con i prezzi toccati questa settimana, come vedete siamo tornati praticamente sui massimi di ottobre 2017 che sono stati toccati a 4,63, difficile in questo momento pretendere molto di più da questo titolo, pertanto secondo me il vero rischio è quello del downside nel caso emergano degli elementi negativi alla realizzazione dell'operazione e pertanto suggerirei di valutare con attenzione discesa di sotto di 4,20 perché in quel caso ci sarebbe magari da prendere in considerazione l'idea se uno avesse il titolo in portafoglio di prendere profitto in attesa di vedere i nuovi sviluppi quali potrebbero essere. In questo momento Biperbanca che dovrebbe partecipare all'operazione in quanto dovrebbe accollarsi una notevole porzione degli sportelli di UBI soprattutto nel nord e nel centro Italia, il titolo è andato in conto ad una brusca flessione ovviamente quando c'è stata questa notizia perché per fare questa operazione Biperbanca ha ipotizzato un aumento di capitale fino a un miliardo, più probabilmente limitato a 700-800 milioni, nella seduta di ieri c'è stato il rischio di vedere completato il doppio massimo che i prezzi hanno disegnato a partire dal 10 di gennaio, il massimo del 17 di febbraio è 4,6680, quindi i due livelli sono esattamente allineati, la base della figura è il minimo del 3 di febbraio a 4,08, ieri la chiusura è stata a 4,1270, quindi c'è stata una violazione all'intraday ma nella chiusura di seduta del supporto attenuto, se dovessimo scendere sotto 4,08, 4,05 in chiusura di seduta il doppio massimo avrebbe confermato, ci sarebbe il rischio di assistere a discese almeno fino a 3,70 se non a 3,50 ma fino a che questo supporto tiene si può continuare a sperare che i prezzi si riconducano almeno nella porzione centrale del trading range, quindi almeno fino a 4,40 ma potrebbero anche salire fino a 4,65, 4,70 se il mercato dovesse poi alla fine valutare positiva questa presa di posizione da parte di Unipol e di Biperbanca e in quel caso la nostra fase laterale non sarebbe più un rischio di ribasso ma diventerebbe un'opportunità di rialzo e ci sarebbe una prospettiva di tornare verso i 5,20 e 15,5,20 che sono i massimi del maggio del 2018, pertanto l'unica cosa da tenere sotto controllo in questo momento per Biperbanca secondo me è il supporto di area 4,05 fino a che quello tiene si può scommettere su una fase di ripresa del titolo. Interessante sicuramente anche Unipol sai che nel corso delle ultime sedute ha disegnato un deciso rimbalzo, si è fermato questo rimbalzo sul 68% di tracement della discesa dal massimo del 20 dicembre, la resistenza quindi da battere quella dei 2,65 sopra quei livelli possibile ritorno almeno a 2,80, se dovessimo invece vedere le quotazioni che vanno di sotto i 2,58 c'è il rischio di tornare a 2,50 a ricoprire questo gap che si è aperto il 14 febbraio. La tendenza di fondo è positiva ormai da molti mesi, i prezzi si muovono all'interno di questo canale crescente e dal momento che attualmente siamo nella porzione centrale del canale, se come abbiamo detto i supporti di area 2,58, 2,60 e 2,70 si potrebbe immaginare il test di 2,85 dove c'è il lato alto del nostro canale crescente. Valutazione positiva ma in cerca di confermere anche per Unipol che come vedete nella seduta di ieri aveva superato la forte resistenza data dal massimo del 14 novembre a 5,44, la chiusura di ieri era stata di sopra di questo livello, 5,50 circa, oggi torniamo a testare dall'alto la ex area di resistenza, quindi fino a che stiamo di sopra di 5,44, la flessione odierna può essere considerata un return move che potrebbe anticipare una nuova fase crescente dove potrebbero andare i prezzi, anche in questo caso possiamo disegnare un canale simile a quello che abbiamo visto per Unipol Sai, lato alto del canale in questo momento in transito a 5,66, 5,67, quindi fino a che rimaniamo di sopra di 5,44, il primo target è posizionato in quell'area. E veniamo infine a Montepaschi che appunto diventa appetibile sul mercato in questo momento come possibile target per una ulteriore fase di espansione da parte di altri soggetti bancari, per il momento il titolo ha inviato questo bel segnale superando il 38,2% di retracement del ribasso dal massimo di maggio 2018, lo spazio su Montepaschi come sappiamo per recuperare è praticamente infinito perché come vedete anche se prendiamo in considerazione solo la discesa che c'è stata negli ultimi due anni, anche solo in termini di ritracciamento vedere raddoppiare il valore rispetto ai prezzi attuali non è una cosa impossibile, ovviamente mancano poi le conferme in questo senso, ma su Montepaschi abbiamo un potenziale di rialzo veramente molto esteso che potrebbe anche trovare delle conferme nel prossimo futuro, la resistenza da superare come vedete è quella di area 2,15, se il prezzo adesso salire sopra 2,15 diventerebbe credibile un target a 2,53, 2,55, fino a che non siamo sopra 2,15 invece prudenza perché il mercato potrebbe anche tornare a vedere dall'alto la ex resistenza di area 1,93 e 1,94 e da quei livelli poi magari ripartire al rialzo, quindi non mi metterei a comprarlo su questi livelli, aspetterei la rottura di 2,15 oppure un ritorno a 1,90 e 1,95. Detto questo vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a lunedì a domani con il nostro consueto commento giornaliero.